Oggi vediamo, credo per molti di voi in anteprima, un nuovo prodotto che si chiama VeriMark a base di un nuovo principio attivo che si chiama Chalzipier. Chalzipier è una nuova molecola che appartiene alla famiglia delle diamidi del gruppo AIRAC28 e si caratterizza questa molecola dalla grandissima efficacia nei confronti degli insetti target che sono leurodidi, che sono ditteri, che sono tripidi, che sono lepidotteri. Oggi ci concentriamo e vedremo VeriMark 200 g litro, sospensione concentrata per applicazioni in manichetta. Partiremo dal pomodoro laggiù in fondo. Per salire abbiamo zucchino, cetriola e melanzana, quindi una prova molto impegnativa. È un insetticida a mio modo di vedere con una potenzialità molto elevate. Ha un'azione su diversi insetti, parliamo di lepidotri, parliamo di tripidi, parliamo di mosca bianca. Riesce a devitalizzare lo stiletto e quindi in questa maniera, oltre ad eliminare l'insetto e il danno che ne fa, riesce a eliminare il vettore di diversi virus. Quindi parliamo di New Delhi, che qui al sud sta veramente faciliando diverse culture, soprattutto lo zucchino e il tilk nel pomodoro. I prodotti che si utilizzano, normalmente stanno utilizzando fino adesso, hanno perso di efficacia. Quindi benvenga un prodotto nuovo che abbia una buona efficacia e possa rallentare sia la diffusione degli insetti, ma soprattutto anche la diffusione dei virus. Si sta rilevando molto interessante per la difesa delle culture, in modo particolare anche per lo zucchino. Questo prodotto è un po' a largo spettro, non controlla solo l'abbia misa, abbiamo visto, ma anche altri insetti dannosi comunque al pomodoro o alle altre culture. La stessa cosa anche nello zucchino, dove il virus, questo nuovo del New Delhi, è stato diciamo trattenuto e bloccato abbastanza bene rispetto ai testimoni. Per quello che ho visto ritengo che questa molecola è una molecola molto valida per la gestione di questa problematica. Le aspettative sono un contenimento dell'attività virotica di Bemisia Tabaci perché riesce a bloccare la propria attività sulla pianta. Speriamo di averla al più presto a disposizione perché sicuramente è un altro mezzo in più che ci aiuta a produrre meglio. Il consiglio di utilizzarlo, quindi iniziare a utilizzarlo, è verificare realmente in campo questa efficacia che abbiamo visto in questa piccola prova. Questo prodotto si caratterizza dalla grande efficacia, come già detto, e dalla capacità di far crescere la pianta in modo sano. La pianta non è colpita dagli insetti target, quindi può crescere sana, rigogliosa e può far portare a produzioni quantitativamente più alte e qualitativamente migliori in termini di parametri qualitativi.